Napoli è una sirena che ti incanta col suo canto, è tuffo magico, è voci del vicolo anche quando il vicolo tace, è voler scappare ma tornare sempre qua, è terra mia. Napoli è l'ombelico del mondo, Napoli è qualcosa di splendido, di magnifico, di unico, qualcosa che quando vieni a Napoli ti lascia il segno. Napoli è una città meravigliosa perché c'è sempre qualcuno pronto ad aiutarti. Napoli è una città meravigliosa, è una città viva. Napoli è una città unica nel suo genere. Napoli è una botta. Napoli è una città piena d'amore, di fantasia. Napoli è cultura a cielo aperto, è caos, è casino, è un bociare costante, parole dette ad uno sconosciuto. Napoli è una città che è cambiata molto negli ultimi anni, è stata rivalorizzata, c'è molto più turismo, c'è molto più bene di quando l'ho lasciata sei anni fa per andare via dall'Italia. Mi è sembrato una Napoli in rinascita, ho visto le parti artistiche, le chiese, il restauro, la costruzione e mi hanno trasmesso un po' anche la fatica di questa nuova rinascita di Napoli. Napoli è magica perché i napoletani anche in situazioni difficili riescono a stare meglio dalla propria città. È grande come una città ma è come se fosse un grande paese, quindi passi per le strade e senti la musica napoletana. Forse probabilmente è il luogo comune, è il luogo comune stesso perché effettivamente noi siamo un po' il luogo comune che decantano un po' tutti. E quindi è come se Napoli esprimesse la propria napoletanità non solo attraverso la città, la storia e i monumenti e la cultura ma soprattutto attraverso la gente. E questa è una cosa che la rende unica e inimitabile. È una delle città che potrebbe essere tra le più belle al mondo e tra le più visitate al mondo e probabilmente un giorno arriveremo lì. Forse è lo stesso desiderio di fuggirmi via che in contemporanea fa sì che voglia restare, continuare a lottare perché questa città possa risorgere un po' dalle ceneri come sta facendo e come spero che torni ad essere. Napoli è qualcosa di eccezionale in Italia, veramente è il centro della cultura del nostro paese, Italia, che peraltro è un paese bello da nord a sud, ma Napoli è speciale, è qualcosa di singolare, vale la pena vederla. Venite a Napoli!